Ci sono quattro cose che non puoi neanche immaginare che ti rendono una donna sensuale agli occhi degli uomini. La prima è una leggera simmetria del viso perché dà proprio un'idea di fertilità a livello istintuale e subliminale. Ovviamente ognuno di noi ha il viso leggermente simmetrico per cui tu puoi accentuarlo leggermente attraverso il make-up, attraverso il trucco. Quindi la parte destra del tuo corpo, ad esempio un occhio, lo fai leggermente più accentuato con il trucco, leggermente più accentuato ad esempio la parte destra o sinistra del labbro, leggermente più rossa. Deve essere ovviamente un qualcosa di infinitesimo che uno non se ne rende neanche conto, non razionalizza a livello logico-razionale, ma passa a livello subliminale questa situazione. Ed è veramente molto seducente. Un'altra cosa quando incontri un uomo che ti piace è avere inizialmente un viso imbronciato, cioè un po' imbronciato, un po' teso, triste, e non appena lo vedi deve tramutarsi in un sorriso. In modo tale che analogicamente lui crederà che è lui che ti ha fatto cambiare umore e quindi si crea un ancoraggio legato al senso del possesso e alla capacità erotica molto forte. Quindi anziché sorridere subito, quando incontri l'uomo che ti piace devi essere un po' imbronciata e successivamente quando lui interagisce con te aprirti in un sorriso. È veramente molto 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 sensuale. Un'altra cosa è legata diciamo al seno, questo è quello che hai, però se ce l'avessi piccolo sei fortunata rispetto a quelle che hanno un seno prosperoso. Perché il seno piccolo portato però senza reggiseno, soprattutto con una maglietta dove si può evidenziare magari il capezzolo in qualche modo, è ritenuto molto molto più attraente al sexe sensuale di ad esempio di un seno molto grande. Sembrerebbe andare in controtendenza, invece così. Pensai che ci sono donne che spendono soldi per gonfiarsi il seno anziché dovrebbero spendere per impicciolirselo. E l'ultima cosa che riguarda la biancheria intima, meglio se c'è qualcosa di spaiato. Perché diciamo, ovviamente deve arrivare a spogliarti, da un'immagine di sensualità maggiore all'uomo che crederà che tu non eri pronta per l'uso, diciamo così, erotico. E quindi si crederà un conquistatore, avrà una, diciamo, il suo egocentrismo in quel momento lì riceverà una pulsione ulteriore. Ovviamente deve essere curato ma fintamente non curato, diciamo così. Nel senso che se sei tutta perfetta con tutti i completini, tutti i colori, tutto combinato perfettamente al millesimo, lui penserà che tu in realtà alle sedotte eri già pronta. Invece deve essere il sexy ma con qualcosa di spaiato, qualcosa di scombinato, in modo tale che lui pensi che è lui che è riuscito e tu non te l'aspettavi. È per quello che non è rimessa tutto puntino. Invece, nonostante tu non te l'aspettassi a non essere pronta, è stata la sua abilità a sedurti. Insomma, gli fai credere di averti sedotto e questo ti dà una capacità, dà una sensualità notevole. Prova a usare queste tattiche e vedrai che verrai percepita in modo molto, molto, molto più sensuale dai maschi. Bene, per questo video è tutto. Condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale e seguimi sul blog seduzionevip.com. Ciao!